Buongiorno, a che titolo entri nei cantieri? Lo sai che non hai più titolo per entrare? In via Abruzzo eri dentro, tu stai violando la legge ed è gravissimo che un ex sindaco violi, calpesti la legge, tu entri nei cantieri senza titolo, non solo tuoi, sono della città i cantieri i cantieri sono della città, non solo tuoi, stai calpestando la legge, stai calpestando le legge vergognati, non c'è bisogno, il commissario te l'ha detto chiaramente, fai finta di non sapere rispondi perché entri nei cantieri? Non entro nei cantieri ti ho già detto, come tutti i cittadini sei entrato all'interno nel recinto, hai postato il post, hai postato via Abruzzo, via Abruzzo chiusa all'interno, il commissario vi ha diffidato e anche via Fiume, è gravissimo, stai calpestando i cittadini di Taranto devono sapere che c'è una persona che entra nei cantieri, ci sono norme di sicurezza, sì, norme di sicurezza che stai calpestando, lo devono sapere i tarantini grazie